Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon venerdì 30 settembre, con il Vangelo secondo Luca 10, 13, 16. Guè a te, Corazin, guè a te, Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si avrebbero convertiti, vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarna, sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Segui la lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco, intitolata Riconoscere il bene che Dio mette nella tua vita, vivi con gratitudine. Il rimprovero che Gesù rivolge a Corazin e a Bezaida nel Vangelo di oggi ci aiuta a fare un esame di coscienza importante. Troppe volte ignoriamo quello che il Signore fa o ha fatto dentro la nostra vita, dando tutto per scontato e perdendoci l'occasione di cambiare proprio a partire da queste cose. Il nostro vero problema è che quando viviamo un bene ce ne abituiamo fino al punto da considerarlo un diritto. Una persona che è in buona salute non si accorge di quel bene finché non gli manca. Una persona che ha ogni giorno da mangiare non si accorge dell'importanza del cibo finché non ha fame. Una persona che vive in un paese dove non ci sono guerre non dà nessuna importanza a quella pace finché non accade qualcosa che lo scaraventi nel suo contrario. La domanda è, perché dobbiamo aspettare di fare un'esperienza negativa per poter prendere sul serio il bene che è presente nella nostra vita? Avere una vita di fede significa non aspettare la tragedia per decidere di essere persone migliori. Avere fede non significa vedere Dio, ma vedere tutto il bene che in maniera nascosta mette nella nostra vita e vivere con una rivoluzionaria gratitudine che ci rende persone migliori.